Subi! Ti segui, giallo! Wow! Bravo! Ma righezza? Se tu mamma che ti fatti anche in azienda, ecco che ti vado a dare come è condizionato. è un po' ancora vieni te lo fischierai a boccio da gola porco dio a boccio da gola porco dio Sì, sì. 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 Ma no, ma guarda, ci manca ancora 5 minuti, eh? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.